Sì, pare di sì che siamo partiti. Bene, pollicioni verdi, benvenuti, benvenuti in questa presentazione del corso sulla risemina di un prato danneggiato della Best Prato Academy. Eh sì, 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 sì. Per ottenere un prato sano, forte e bello, talvolta non è necessario rifare il lavoro da zero, no? È possibile recuperare i danni o i problemi eseguendo anche una risemina. Un prato diradato, sappiamo benissimo, che richiede sempre e obbligatoriamente una risemina per tornare fitto, per tornare denso, per tornare bello. Ma ci sono anche altre criticità che vengono risolte riseminando il prato. Prima di entrare nel dettaglio e presentare il corso, due parole sulla Best Prato Academy. La Best Prato Academy è una scuola di formazione, una scuola di formazione sul prato e sul giardino che a me piace definire di eccellenza e che tra le altre cose ha già disponibile un corso, è già disponibile un corso tutto dedicato alla semina da zero, quindi alla semina di un prato completamente nuovo. Best Prato Academy utilizza, diciamo, una didattica innovativa, una didattica alla portata di tutti, che permette in poco tempo, in veramente poco tempo, di apprendere i segreti, diciamo così, dei migliori giardinieri. Lo stato dell'arte, delle strategie sostenibili, tecniche, metodi 100% naturali, insomma innovativi, rispettosi dell'ambiente. Dal mio punto di vista, un nuovo modo di fare giardinaggio. Io sono il direttore didattico della Best Prato Academy, molti di voi mi conoscono, mi seguono da tanto tempo, ma insomma, per gli altri mi chiamo Fabio Polo, Mi sono formato alla scuola agraria del Parco di Monza, ma soprattutto, come amo sempre dire, ho lavorato, ho collaborato, lavoro e collaboro ogni giorno con i migliori agronomi, con i migliori tecnici, con i più bravi giardinieri specializzati proprio nella cura del verde residenziale, pubblico e sportivo, dei giardini e dei manti erbosi in particolare. Sono anche l'autore di A Filo d'Erba, vediamo se ho qui una copia, come al solito ne sono sprovvisto, ma insomma andate sulla fiducia, un attimo. Eccolo qui, sono l'autore di A Filo d'Erba, è il libro sul tappeto erboso più venduto in Italia dal giorno della sua uscita, che risale al 3 dicembre 2018. Mamma mia, se è passato il tempo! Ho ideato Besprato, credo anche oggi il punto di riferimento sul web per quanto riguarda i consigli sul prato, sul giardino, dove ruota una community di oltre 100.000 appassionati, anzi molti di più se contiamo le pagine Facebook, il canale YouTube, Telegram, Instagram, tutte le newsletter. Ma torniamo al corso. Dunque, si tratta, il corso sulla risemina di un prato danneggiato, di oltre due ore di contenuti video ad alta risoluzione. Sono 14 moduli, 14 unità didattiche, decine e decine di slide che poi possono essere scaricate in formato PDF e liberamente stampate, diciamo così. All'inizio ho definito questo corso un corso di eccellenza per imparare tutti i segreti dei migliori giardinieri. Non è una cosa banale. Perché? Perché per poter eseguire bene una risemina non si può improvvisare veramente nulla. Ed infatti nel corso vengono affrontati tutti gli aspetti che, in un modo o nell'altro, concorrono al raggiungimento del successo finale. Ovvero, di creare un manto erboso che stabilmente, quindi nel tempo, si mantiene robusto, si mantiene bello, fitto, compatto e soprattutto sano. Che significa? Libero dalle malattie e dalle infestanti. Adesso cercherò di entrare nel dettaglio di cosa tratta il corso, in modo tale che tu possa farti un'idea molto precisa e capire se questo corso fa per te. E quindi acquistarlo con la consapevolezza che ti sarà sicuramente utile. Allora, partiamo. Partiamo perché il primo modulo è una sorta di introduzione nella quale vengono messi a fuoco sia i contenuti e sia alcuni aspetti di fruizione del corso stesso. Ma poi si entra subito a parlare del perché è così importante seminare, riseminare il prato. Certo, l'abbiamo detto, un prato diradato lo si recupera solo riseminandolo. Ma i vantaggi di una risemina, anche in quando il prato non è necessariamente molto diradato, i vantaggi sono significativi. Ed in questo modulo viene spiegato quali sono questi vantaggi e quando è sempre opportuno riseminare. Poi si entra subito nella pratica, andando a vedere le varie tipologie di risemina che si possono eseguire. Possiamo ad esempio fare una risemina totale, una risemina parziale di alcune zone, una risemina anche di tipo, lo chiamiamo localizzato. Ovvero per andare a recuperare piccole, piccolissime zone, piccoli buchi che si sono creati qua e là, per effetto di mille cause, dalle talpe alla pipì del cane e del gatto che ha bruciato completamente quelle zone. Per ciascuna di queste tipologie di risemina vengono proposte le riflessioni, le tecniche e gli approfondimenti specifici. Poi, il quarto modulo parla di attrezzatura. Di quali sono gli attrezzi base di cui bisogna adottarsi, quali invece sono quelli opzionali e quali possono venire eventualmente noleggiati. Si prosegue affrontando un tema molto molto critico che è quello di quando seminare il prato, quando è il momento migliore per fare, come riconoscere quando è il momento giusto di iniziare i lavori. Capisci anche tu che, come posso dire, sbagliare il momento della semina è un errore assolutamente da evitare perché in molti casi significa fallire, significa non riuscire ad ottenere un bel prato. Si va avanti con uno dei moduli più corposi di tutto il corso, che affronta la scelta delle sementi. È evidente che è un tema di estrema importanza, che dal mio punto di vista, parlo della scelta delle sementi, non puoi mai completamente delegare agli altri. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che magari tu puoi chiedere aiuto ad un produttore di sementi perché ti dica qual è la semente più giusta per il tuo prato, ma devi sempre tenere a mente che ci sarà un conflitto di interessi, ovvero che il produttore ti dirà quale delle sue sementi, ribadisco delle sue sementi è la migliore, ma non è detto che quel miscuglio sia il migliore in assoluto. E quindi è importantissimo conoscere le varie caratteristiche delle sementi, come vengono creati i miscugli, quali sono i vantaggi di una tipologia rispetto ad un'altra. Questo ti permetterà di fare la scelta giusta e soprattutto, lasciamelo dire, di non ricevere delle fregature. Il modulo successivo è il modulo numero 7, affronta la preparazione del letto di semina, la preparazione ideale, ovvero quelle lavorazioni da fare nel prato che precedono la distribuzione delle sementi. Chi tra di voi segue da molto tempo il metodo Besprato, sa benissimo che questo è un elemento sul quale ci siamo soffermati moltissime volte, in quanto la creazione di un adeguato letto di semina è in grado di aumentare la germinazione fino al 20% in più. 20% significa riuscire ad ottenere un prato subito denso rispetto invece ad ottenere un prato parecchio diradato, cioè quel 20% di differenza si nota in maniera molto chiara a occhio nudo. Creare un letto di semina ideale significa sia lavorare sul prato esistente che apportare una serie di materiali che favoriscono la germinazione. Successivamente si passa ad affrontare il tema della distribuzione delle sementi. Nel modulo, questo modulo numero 8, vengono date tutta una serie di suggerimenti, vengono dati, per fare in modo che la distribuzione delle sementi avvenga il più possibile in modo uniforme, ovvero che la distanza tra un seme e l'altro sia quella corretta e il più possibile costante. I consigli che troverai in questi moduli, in questo specifico, sono tutti estremamente pratici, che puoi applicare utilizzando le normali attrezzature che si hanno a disposizione a casa o che si possono acquistare senza spendere un mucchio di soldi. Il modulo successivo racconta di come la concimazione dopo la semina svolga un ruolo fondamentale nei processi di prima radicazione e di primo sviluppo e ti dà una serie di suggerimenti specifici sulla scelta del concime di nuovo al di là delle specifiche marche. Dobbiamo diventare veramente capaci di scegliere i prodotti non sulla base del brand e del marchio, ma sulla base delle vere caratteristiche tecniche, degli elementi che lo compongono. Prima, all'inizio, ho parlato delle varie tipologie di risemina, citando la risemina localizzata. Questo tema viene sviluppato in uno specifico modulo, in una specifica unità didattica, nella quale raccontiamo come andare a recuperare quelle piccole zone rovinate. Per piccole zone si intendono spazi di 15-30 cm al massimo. Il corso poi procede affrontando tutti gli argomenti legati a cosa fare dopo aver seminato. Quindi viene affrontato il tema dell'irrigazione, sia dell'irrigazione di semina, che è quella che serve affinché avvenga la germinazione, sia quella da effettuare fino ai primi tagli e subito dopo i primi tagli, con alcuni accenni anche all'irrigazione del prato adulto. Chi tra di voi ha già seminato un prato, sa anche quanto sia delicato il momento del primo taglio. Non sai mai quando farlo. Hai una paura folle di camminarci sopra perché il prato è giovane, perché temi che si possa sciupare, che si possa rovinare. Sono preoccupazioni più che lecite ed è importante capire quando è il momento giusto di tagliarlo, come fare questo taglio nella maniera corretta. Bene. Questo è il tema della lezione numero... Oddio, ho perso... Credo sia 12. Sì, 12. I due ultimi moduli didattici affrontano i problemi tipici che capitano praticamente a tutti dopo aver seminato il prato, dopo averlo riseminato. questi problemi vengono descritti uno a uno e ovviamente, siamo qui per questo, vengono proposte le soluzioni. Mentre l'ultimo modulo riguarda tutte le operazioni da fare, come posso dire, dopo. Cioè, dopo aver concluso tutti i lavori, le operazioni quando iniziamo a considerare il prato adulto. Ok? Come avrei capito, si tratta di un corso veramente esaustivo, veramente completo, ha tutto quello che devi sapere per riseminare perfettamente il tuo prato danneggiato, il tuo prato rovinato. E ti permette di acquisire queste conoscenze in modo molto rapido, in maniera efficace. sarai così in grado di fare tutti quanti i lavori senza commettere degli errori. Per concludere, avremmo potuto, a questo corso, dargli un costo molto alto. Ma abbiamo deciso di renderlo, come posso dire, veramente alla portata di tutti. anche contro tutte le leggi del marketing che dicono che la percezione del valore è data anche dal prezzo alto. Bla 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 bla. E non è finita. Perché abbiamo reso l'offerta ancora più ricca. Abbiamo aggiunto un ebook gratuito con la guida all'irrigazione del prato adulto. Un buono sconto, credo che sia del 15%, sui materiali didattici dell'Academy. E l'accesso a vita, a tutti i contenuti e quindi ai futuri aggiornamenti. Il tutto in un'offerta che secondo me è veramente un'offerta, come posso dire, un'offerta stracciata. E onestamente non so per quanto rimarrà tale. Boh, a parte gli scherzi. L'offerta è a 29 euro. Io non so, sinceramente, se ti ho convinto. Ma se devi riseminare il tuo prato, se hai paura di fare errori, se non hai ancora ben chiare tutte le operazioni da fare, oppure desideri ottenere il miglior risultato possibile nel più breve tempo, credo, sono convinto, che questo corso sia fatto perfettamente per te. Nella descrizione di questo video troverai il link per poterlo andare a vedere e ovviamente poi acquistare. All'interno di questo link ci sono tutte le cose che ti ho detto, c'è l'indice, c'è il riassunto dei contenuti del corso. E che dire, questa presentazione finisce qui. Ovviamente, se hai qualsiasi dubbio sul corso, sui contenuti, sulla modalità di fruizione, su qualsiasi argomento ti venga in mente, puoi scrivere qui sotto nei commenti di questo video la tua domanda o mandarci un'email. Insomma, io spero che queste iniziative didattiche, diciamo, ad alto valore e prezzo onesto, ti possano essere d'aiuto. Se vuoi rimanere aggiornato sui nuovi corsi, su tutte le iniziative della Vesprato Academy, nella descrizione di questo video, qui sotto, troverai un link dove lasciare la tua email per poter, appunto, ricevere tutte le informazioni, ad esempio, sui prossimi corsi. Bene, direi che abbiamo finito. Se ritieni utile, ci farebbe molto piacere se ci aiuti a condividere questo video pubblicandolo nei tuoi social o anche, semplicemente, diciamo così, mettendo un mi piace. Abbiamo concluso, io vi saluto, vi do appuntamento alle prossime presentazioni dei corsi e che dire. Ciao a tutti, pollicioni verdi! Ciao, ciao a tutti! Abbiamo finito? Abbiamo...